Eccoci! Buongiorno a tutti! Come state? Tutti bene? Spero di sì! Sono felice di darvi il benvenuto a questa altra puntata, penso sia la seconda, ok? In questo caso ho già aperto il conto subito, di Tube Launch, in cui andiamo un po' a fare chiarezza sul funzionamento di YouTube, vi do consigli pratici per farvi crescere il vostro canale e andiamo anche un po' a sfatare i miti che sono sparsi in giro proprio sul funzionamento di YouTube. Sono contento oggi perché ci tenevo a fare questa diretta, visto che insomma il discorso algoritmo di YouTube, ne ho già parlato anche in scorsi video, in una puntata del mio nuovo podcast di cui vi ho già fatto accennare nella scorsa live, che tra l'altro se non avete ancora iniziato ad ascoltarlo l'ho trovata appunto sul mio canale YouTube, e come dicevo appunto l'algoritmo di YouTube oggi ancora molti non hanno molto le idee chiare. Ciao Davide, benvenuto! Grande! Sono contento che tu sia qui. E come dicevo appunto, ci sono ancora troppe idee strambe, non tanto gente che non hanno le idee chiare, idee strambe sul funzionamento della piattaforma. E quindi oggi voglio un po' aiutarvi perché così andiamo subito a eliminare tanti pensieri negativi che si hanno sulla piattaforma. Ottimo, grazie Davide, grazie per il feedback. E quindi insomma almeno a capire come davvero si può crescere su YouTube senza il timore dell'algoritmo, perché tanti hanno paura quando invece dovrebbero vederlo come un alleato, ma adesso ci arriveremo. Detto ciò quindi, intanto vi chiedo subito di lasciarmi un bel like, in modo che così possiamo aiutare sempre più persone a conoscere le mie dirette, e se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi al mio canale, in modo da non perdervi le prossime dirette, i prossimi contenuti, il mio video podcast e tante altre belle chicche che porto qui su YouTube. Quindi ho con me già pronta la mia bella scaletta degli argomenti e partiamo quindi subito con, rispondendo alla prima importante domanda, cioè come funziona l'algoritmo di YouTube. Allora, vi faccio una breve spiegazione, poi vi voglio fare un esempio pratico e andremo su YouTube per vedere appunto come funziona. Allora, prima di tutto, l'algoritmo, in realtà ce ne sono tanti di algoritmi, però io lo chiamerò algoritmo, lavora in maniera molto specifica, ovvero, prima di tutto, c'è a mettere in chiaro un concetto, ovvero che l'algoritmo è stato creato niente, la tosse anche oggi, già nelle scorse dirette ho avuto un po' di tosse, ma con questo tempo freddo, caldo, freddo, caldo. Vabbè, comunque dicevo, l'algoritmo è stato creato in maniera specifica per gli utenti finali. Cosa significa? Che è stato fatto in maniera da aiutare chi naviga sulla piattaforma non come creator, ma come quello che usufruisce dei contenuti dei video. In altre parole, fa in modo che chi fa ricerche su YouTube o cerca video, vuole vedere video sulla piattaforma, gli vengano consigliati o gli vengono messi davanti i video che davvero gli servono. In che modo? Ovviamente YouTube va a monitorare quello che è il comportamento delle persone sulla piattaforma e di conseguenza, mano a mano che acquisisce informazioni, riesce a consigliare i video sempre più in linea con le ricerche. E vi faccio adesso un esempio, no? Quindi andiamo un attimo sul mio desktop, spero di cuore che lo vediate bene, anzi faccio anche così, voilà, così mi vedete anche a me per benino. E quindi cosa succede? Noi siamo qua per esempio, no, mi piace più così, ecco, è più bellino. Dicevo, siamo qua su YouTube, no? Mettiamo il caso che io faccia una ricerca, ok? Ad esempio metto una cosa banale, un argomento che magari in tanti cercano, che è come perdere peso. E faccio il tasto invio dal tastiere, clicco sulla iconcina della lente di ingrandimento. Al di là del primo, che è un annuncio pubblicitario, che quindi non c'entra nulla, perché ha un altro funzionamento, tutti gli altri video sono posizionati perché sono stati messi lì, per così dire, dall'algoritmo, dalla piattaforma, in base a determinati criteri. Il primo di tutti è la parola che ho inserito nel motore di ricerca. Quindi, io ho scritto come perdere peso, di conseguenza YouTube mi va a consigliare tutti quei video che quantomeno hanno o questa stessa parola nel titolo o nella descrizione, o comunque delle terminologie affini, ok? Per esempio, no, qui il primo risultato dice 5 errori da fare se non vuoi dimagrire, e quindi in questo caso non ha preso come perdere peso, ma ha tenuto in considerazione un sinonimo, anche qui uguale, eccetera, eccetera, no? E ulteriori, diciamo, sinonimi e video che comunque riguardano questo obiettivo. Già una prima cosa che salta all'occhio è che non sono tutti dello stesso canale, cioè non sono tutti, scusate, tutti gli stessi video dello stesso canale, ma ci sono più canali, a dimostrazione del fatto che, cose che se poi andremo ad approfondire, YouTube non va a premiare soltanto alcuni creator, ok? Ma a tutti quelli che hanno fatto un contenuto che sia in linea con le ricerche. E di conseguenza, che siano piccoli o che siano grandi, se questi video hanno fornito un'informazione utile, quindi un titolo chiaro, una miniatura chiara, ma soprattutto, cosa ancora più importante, le persone che già l'hanno visto, l'hanno reputato utile, ok? E quindi l'hanno guardato magari fino alla fine, hanno messo like, hanno commentato, condiviso, eccetera, YouTube tiene in considerazione tutti questi fattori e spinge più in alto, quindi nei risultati, diciamo, i primi partendo dall'altro, dall'alto, quelli che appunto hanno soddisfatto questi criteri. E proprio parlando di tempo di visualizzazione, uno dei fattori più importanti è quello cosiddetto, quindi è soprannominato, watch time, tempo di visualizzazione. Cosa significa? Che YouTube dà, diciamo, più visibilità a quei video che sono stati visti sicuramente da un maggior numero di persone, ma che di queste persone una grassa fetta è arrivata il più possibile verso la fine del video. Per farvi un esempio, se io ho fatto un video di 10 minuti e le persone hanno guardato quindi fino all'ottavo minuto, facciamo un esempio, il watch time sarà dell'80%, se invece hanno visto solo due minuti, in media, sarà del 20%. Di conseguenza, YouTube dice, ok, il tuo video è stato visto per l'80%, è un ottimo risultato, ti do una bella spinta. È stato visto solo per il 15-20%, vuol dire che forse non è quello che cercavano, e quindi ti spingo di meno, ok? Ti do meno visibilità. Spero che fin qua sia tutto chiaro, nel caso scrivetemi in chat se avete dei dubbi. Altri concetti da tenere in considerazione, appunto, sono anche le interazioni, i like, le condivisioni e quant'altro, no? Cioè, tutte azioni che, se ci facciamo un ragionamento anche di carattere umano, sono cose che uno fa se il contenuto gli è piaciuto, ok? È un po' come quando tu dai un consiglio a un tuo amico, gli consigli un bel ristorante, dove andare a mangiare, ed è normale che, se questa persona, questo tuo amico, è contento del consiglio, dirà, guarda Marco, mi ha consigliato quel ristorante. Quindi andrà a fare un po' bassa parola di quel consiglio che è partito da te, ok? Se non si è trovato bene, non condividerà, non dirà nulla, ok? Quindi si fermerà tutto lì. Stessa cosa nei video. Se noi facciamo dei contenuti che sono fatti per le persone, e questo è già un concetto che voglio mettere bene in evidenza, ovvero per le persone, non per l'algoritmo, cioè andare a capire il funzionamento, degli aspetti tecnici, non serve a nulla. Cioè, noi dobbiamo sempre lavorare con l'obiettivo di toccare le persone e andare ad offrirgli un prodotto, i video, che va incontro alle loro reali necessità. Se facciamo questo, è normale che poi l'algoritmo viene stimolato nel senso positivo degli utenti, di conseguenza abbiamo più visibilità. Poi, comunque, verso la fine del live, rimanete fino alla fine perché ho ottenuto proprio per la parte finale alcuni consigli per migliorare i nostri contenuti allo scopo sicuramente di essere premiati dall'algoritmo, ma soprattutto dai nostri utenti per farsi dichiarci una nostra, diciamo, community fidelizzata, no? Che ci segue qualunque cosa noi faremo. Adesso però voglio aprire un'altra questione, no? Quella dei falsi miti, ok? Ne ho un po' già parlato in maniera un po' più ridotta nello scorso episodio del mio video podcast, ma oggi voglio approfondirlo, no? Vediamoli uno a uno. Ne ho raccolti essenzialmente cinque, sei, ok? Allora, primo falso mito, no? Cioè che l'algoritmo non ci premia, ok? Cosa intendo per non ci premia? Col fatto che alcuni pensano che soltanto il fatto di pubblicare un video che secondo la nostra opinione personale è un bel video e può essere utile o piacere agli utenti, in automatico YouTube dovrebbe dargli una qualche sorta di spinta, quantomeno iniziale, no? Cioè io nelle prime 24 ore ricevo un boost da YouTube e poi magari si vedrà. Ecco, non funziona proprio così. Cioè, come dicevo prima, se noi non facciamo un contenuto che non è stato progettato con degli obiettivi molto specifici e chiari, è normale che le views, il tempo di visualizzazione, le interazioni, gli iscritti e così via, non saranno altissimi. Eppure io ancora oggi nel forum ufficiale di YouTube dove, diciamo, collaboro come esperto di prodotto come volontario, diciamo, diciamo un'attività volontaria, spesso mi trovo di persone che si lamentano del fatto che arrivano poche views, ok? Magari dopo una settimana, due settimane, un mese, arrivano poche views. Ma la vera domanda che su me dovrebbero porsi tutti quelli che affrontano questa situazione è ma ho fatto un contenuto che è in linea con i bisogni degli utenti con cui voglio comunicare del mio pubblico? Offro qualcosa di utile o se faccio anche semplicemente intrattenimento, faccio spesso l'esempio dei gameplay, no? Faccio qualcosa che mi distingue, che dia un motivo in più alle persone di guardarmi e che se faccio un contenuto tanto per farlo, tanto perché la mia idea è quella di voglio monetizzare il prima possibile, quindi inizio a pubblicare come non ci fossero domani e magari prima o poi YouTube mi premierà, come dicevo prima, è ovvio che i risultati non arriveranno. Secondo, diciamo, aspetto è il fatto che l'algoritmo ci blocca, no? L'algoritmo mi blocca. Ho trovato anche persone che hanno detto proprio questa espressione e in particolare sento parlare ancora di una cosa che, lo ripeterò fino allo definimento, non esiste, ovvero lo shadow ban. YouTube non fa shadow ban. Non lo fa, non è una tecnica usata da YouTube, lo fanno altri social, ma non fa shadow ban, ok? Poi eventualmente a questo riguardo vi consiglio di andare a vedere un video nel canale ufficiale di YouTube, YouTube Creators Italia, dove si varia dei frequenti tra cui appunto quella del fatto che YouTube mostra i miei video a meno persone se magari c'è del contenuto che quantomeno magari è un po' violento, esplicito, magari ho un linguaggio un pochino colorato, diciamo così, e quindi in automaticamente vengo shadow bannato, no? O perché tratto una tematica magari delicata seppure magari anche a scopo giornalistico. Ecco, oppure ancora molti pensano che perché hanno l'icona gialla della monetizzazione, non so se avete presente, no? Se voi avete la monetizzazione attiva e magari il vostro video riceve l'icona gialla che quindi può essere monetizzata solo parzialmente, vuoi perché c'è una musica coperta da copyright o per qualunque altro motivo, YouTube dia meno visibilità. Ecco, anche su questo diciamo che è parzialmente sbagliato. In che senso? Che ovviamente se un video è stato, contiene, ripeto, contenuti per adulti, violenti o espliciti o comunque non adatto a tutte le fasce di età, ok? E YouTube comunque fa molta attenzione a questo dettaglio, può essere che visto che non è in linea magari anche con le aziende, con molte aziende e i loro annunci, di conseguenza non mostra il nostro video a una determinata categoria di persone. no, per esempio a quegli account che gestiscono, che magari sono ragazzini, comunque nell'età minima per essere iscritti o cose del genere, potrebbe non mostrarglielo, ok? Ma solo a quel tipo di persone, non è che è uno shadow ban, cioè proprio non esiste lo shadow ban, cioè di fare un blocco generale in cui a prescindere io ti abbasso le visualizzazioni, ok? è soltanto una cosa più mirata a voluta al fatto di proteggere determinate categorie di persone, ok? Io spero che fin qua sia tutto chiaro anche questo aspetto. Di conseguenza, un consiglio che ovviamente vi do è che se portate contenuti in cui c'è il rischio che potete, possiate ricevere una sorta di segnalazione da parte di YouTube, magari cercate di organizzarvi per non portarli in maniera esplicita. Ripeto, lo fate a scopo giornalistico, a scopo di documentario, cercate di essere più, diciamo, neutri possibili in termini di contenuti, cioè non mettete cose che insomma potrebbero far allarmare l'algoritmo, ok? Detta proprio papale papale. Ma comunque al di là di questo, la cosa interessante che comunque ci tenevo a dirvi è che se vi capita che magari una volta non ci fate caso o potete un attimo prendere il metodo di misura su queste cose, YouTube vi vanda comunque un avviso se c'è qualcosa che non va nel contenuto, ok? Per esempio il discorso copyright, il discorso di contenuti non adatti ai minori o quant'altro. E soprattutto negli ultimi tempi YouTube ha perfezionato il sistema di comunicazione con i creators in modo da avere, dare dritte, informazioni chiare su come gestire un eventuale blocco o quindi qual'attività svolgere per modificare il contenuto o piuttosto che comunque altre attività. E tornando invece al discorso copyright, invece il copyright non crea una qualche sorta di shadow ban, ok? Se io ho usato musica copyright e ricevo l'icona gialla non significa in automatico che YouTube darà meno visibilità ai miei video. Magari ci guadagnerò di meno perché in molti casi magari le etichette discografico o gli stessi proprietari di queste musiche preferiscono dire guarda ti lascio il video ma mi prendo parte degli introiti, no? Così da insomma venirci un po' incontro. Però anche qui apro un'altra parentesi, un consiglio che vi do è quello di assicurarvi di usare musica per il quale avete i diritti di utilizzo, ok? o magari per il quale c'è libertà di utilizzo, no? Per esempio la libreria di YouTube è piena di contenuti e canzoni, musiche per i quali non dovete preoccuparvi di ricevere un avviso di copyright. Oppure ci sono siti tipo Invato Elements e simili in cui scaricate una vostra musichetta e alla peggio anzi alla meglio non ci sono nessun tipo di diritti di obblighi. Alla peggio vi danno una sorta di documento che certifica che voi avete diritto di utilizzo. Quindi laddove YouTube mandarvi un avviso come ad esempio l'icona gialla voi fate ricorso inviate questo documento comunque fate copia e incolla delle informazioni e in pochissime ore vi tolgono l'icona gialla. Ok? Anzi una cosa che consiglio sempre è che se non siete sicuri che la musica sia coperta da diritti di copyright mettete un attimo il video in modalità non in elenco in modo che così prima che voi lo pubblichiate YouTube vi dà comunque l'avviso e potete gestire il tutto senza rallentare quelli che sono i vostri introiti. Un'altra cosa che voglio portare alla vostra attenzione è la questione che molti sono preoccupati per il fatto che su YouTube non ci sia più spazio no? Che soprattutto in varie determinate tematiche non ci sia più spazio per per farsi vedere insomma che magari c'è troppa concorrenza diciamo così no? Ecco anche su questa qui avrei un po' da ridire nel senso che in base al metodo che adesso vi mostrerò quindi prestate massima attenzione c'è un modo per capire come entrare eventualmente in un mercato dove all'apparenza può esserci molta concorrenza o ancora meglio trovare dei segmenti ok? li chiamo così di mercato in cui magari invece c'è pochissimo assolutura nessuna concorrenza di cosa sto parlando ve lo mostro adesso vi condivido un attimo lo schermo allora praticamente no? immaginate di avere questi tre cerchi no? potete anche voi fare l'esercizio disegnandole disegnandoveli su un foglio o su un file di testo no? questi tre diciamo cerchietti riguardano tutti gli aspetti i vostri interessi le vostre competenze e quelli che sono gli interessi del mercato cioè degli utenti là fuori no? che guardano video su youtube ecco come potete sfruttare queste tre informazioni per trovare il vostro diciamo argomento per il vostro canale ok? allora fate questo qua è un vero e proprio esercizio quindi vi invito poi a farvelo anche per conto vostro allora prima di tutto fatevi una lista di 5 6 cose che sono di vostro interesse quindi hobby passioni cose che vi piace fare insomma nelle competenze invece proprio come dice la parola stessa andate a inserire ciao come risparmiare veramente benvenuta come dicevo competenze che sono quindi quello che voi sapete fare quindi magari siete avete talento avete delle competenze nel mondo della meccanica dell'arte della che ne so dei videogiochi di qualunque altra tematica ecco le inserite in questo spazio anche in questo caso 5 o 6 e poi alla fine andate a incrociare quelle che sono i vostri interessi le vostre competenze con quelle che sono le necessità del mercato ovvero cosa le persone cercano bene o male che va incontro che si allineano o che si incrociano con i miei interessi e le mie competenze per farlo è molto semplice basta andare su youtube fare qualche ricerca col motore di ricerca come ho fatto adesso usare strumenti come google trends ne ho parlato in qualche altro video in passato e quindi fare un'analisi che ci aiuta a capire cosa realmente le persone cercano e fatto questo quello che noi possiamo andare a fare inoltre è capire in questi in questo diciamo mercato che cosa ancora non c'è ok cosa magari chi già è presente con il proprio canale non sta portando e vi assicuro che per quanto un mercato possa essere pieno vi faccio un esempio di quello più eclatante di cui sento parlare tanto ovvero del food no tutto ciò che riguarda il cibo cucinare ricette no c'è tanta gente che lo sta facendo infatti vedo molto spesso video shorts online che ne vengono pubblicati tantissimi ma magari appunto può essere che ci sia una branchia chiamiamola così di questo mercato dove molte persone ancora non si sono inserite molti creators non si sono inseriti e di conseguenza potreste creare voi qualcosa di unico e originale che va incontro alle necessità degli utenti ok quindi tenetevi questo modello no provate a usarvelo anche voi magari poi fatemi sapere nei commenti come è andata in modo da avere insomma un'idea più chiara di come potreste muovervi ok prima di andare avanti visto che insomma ci tenevo a dirvi una cosa importante come voi ben sapete se non lo sapete ve lo dico adesso io ho creato un mini video corso gratuito per aiutare creators professionisti aziende a creare la propria presenza in modo efficace su youtube no creare un canale efficace fare video in modo efficace eccetera che proprio come una mappa del tesoro ha varie tappe no prima tappa seconda terza e quarta ognuna di queste ovviamente contiene un passaggio no per raggiungere la meta finale no che è quella appunto di creare un canale youtube professionale che quindi porta risultati no all'interno di ogni sezione avete uno o più video ok con indicazioni chiare su come darvi da fare no per far crescere il vostro canale youtube e anche qualche chicca tecnica che ho avuto modo di sperimentare personalmente quindi seconda terza quarta ecco vedete e poi alla fine visto che a me piace dare di più di quello che si può richiedere ho inserito anche dei bonus che uno non l'ho segnato qui perché poi quando vi iscrivete vi arriva nella mail accesso al mio gruppo telegram riservato dove appunto potete accedere al corso e a tante altre risorse tra cui la guida in otto segreti per crescere su youtube un'altra guida diciamo che approfondisce gli argomenti e soprattutto la possibilità di avere una consulenza gratuita con me di 30 minuti così se già avete il vostro canale youtube o un progetto che volete avviare mi contattate e sarà la mia premura a dedicarvi questa mezz'oretta per darvi spunti utili per muovere i primi passi al meglio o per ottimizzare il lavoro che già state facendo su youtube ricapitolando abbiamo detto quindi abbiamo visto come funziona l'algoritmo abbiamo visto quali sono i falsi miti che purtroppo sono in giro molti creator anche grossi purtroppo stanno un po' espandendo dando per veri quando non è così e soprattutto abbiamo visto no come possiamo eventualmente capire come entrare in un mercato su youtube quindi che argomenti trattare con il nostro canale ed eventualmente capire se eventualmente il nostro nostra idea l'argomento per cui vogliamo parlare è già pieno di canali come diventare unici e distinguerci anche eventualmente in un mercato dove può esserci più o meno tanta concorrenza anche se ripeto su youtube al momento non penso che per tanti argomenti la concorrenza non ci sia o sia veramente poca perché gli argomenti sono talmente talmente tanti possiamo dirli in tante maniere che secondo me alla fine ognuno davvero può trovare il suo spazio passiamo quindi alla parte finale quindi come possiamo sfruttare tra regolette l'algoritmo per aumentare gli views e gli iscritti al nostro canale allora essenzialmente ci sono tre aspetti che voglio portare alla vostra attenzione la prima di cui ho parlato tantissime volte mi rendo conto che ancora oggi tanti creator non conoscono meglio non in maniera approfondita questa tecnica per far crescere il proprio canale ovvero l'asseo per youtube allora che cos'è l'asseo visto che adesso quasi in live rispetto ai video ve lo posso anche spiegare in maniera un pochino più approfondita allora l'asseo in generale è una tecnica che si usa in particolare sui motori di ricerca quindi anche google non solo youtube per far sì che lo stesso motore di ricerca mostri il nostro sito il nostro e-commerce la nostra pagina web eccetera alle persone che fanno ricerche appunto su questi motori di ricerca ho detto motori di ricerca mille volte ma il concetto è questo quindi ad esempio se io voglio che il mio sito web venga mostrato da google per la parola come perdere peso prendo l'esempio di prima devo far sì che questa parola sia all'interno del sito web no? sotto forma di testo e altre tecniche che ripeto qua in questo caso non ci interessano e quindi di conseguenza come se noi dicessimo a google guarda il mio sito parla proprio di quell'argomento quindi consiglialo ok? poi ripeto ci sono anche tanti altri fattori che influiscono perché ovviamente su google non ci siamo solo noi che magari parliamo di quell'argomento ci sono altre centinaia di siti e quindi lì bisogna anche poi capire per quali parole chiave tra l'altro termine tecnico che si usa per le parole che gli utenti usano per fare ricerche e quindi dovremmo anche capire di trovarne di più specifiche in modo da non farci diciamo superare dalla concorrenza invece su youtube la cosa cambia leggermente ovvero youtube di per sé essendo di proprietà di google ha una marcia in più per quanto riguarda il far il mostrare i video appunto su big g sul motore di circa google di conseguenza i video già di per sé su youtube hanno molte più possibilità di apparire su google rispetto a una pagina di testo quindi il mio video che si trova su youtube che parla di come perdere peso ha più possibilità di essere vista nei primi risultati su google rispetto a un sito che magari parla di questo stesso argomento come posso fare per far sì che questo accada questo è ovviamente il mio youtube studio e in particolare ho preso questo video qui che ho pubblicato un po' di tempo fa che parla di un piccolo trucco per mettere le miniature agli shorts che tra parentesi tecnicamente non si potrebbe fare ma ho trovato una piccola escamotage ma al di là di questo vi spiegherò prendendo questo esempio qua cosa ho fatto per sfruttare la SEO per farmi conoscere farmi vedere da youtube allora essenzialmente mi sono detto questo video di cosa parla parla delle miniature personalizzate ok e quindi ho detto a youtube ho inserito la parola miniature personalizzate sia qui nel titolo che anche nella descrizione quindi già il primo consiglio è questo quando avete identificato le parole chiave quindi le terminologie più usate o più ricercate dal vostro pubblico fateci un video e inserite quella parola sia nella titolo che nella descrizione ok in questa maniera noi stiamo dicendo a youtube e anche a google ovviamente che questo video parla di questa tematica ovviamente anche la miniatura ha il suo ruolo però più che essere per l'algoritmo è per gli utenti perché diciamo che youtube non può leggere quello che c'è dentro la miniatura questo ha diciamo una valenza per attrarre gli utenti quindi a catturare la loro attenzione con una bella immagine ad alto impatto visivo e di conseguenza vada poi anche a leggere il titolo ed entri nel video ci clicchi sopra e quindi questo è già un primo punto un primo aspetto che va tenuto in considerazione infatti tra l'altro altra cosa che non vi ho detto c'è anche questa sezione qui che tutti conoscete dei tag che come potete vedere a fianco a ogni tag c'è un numerino ok questo numerino appare per chi ho scaricato l'estensione di tab buddy che è essenzialmente uno strumento che ci aiuta a capire come muoverci dal punto di vista seo su youtube ci dà parecchi strumenti interni per migliorare i nostri video dal punto di vista seo e come potete notare per esempio io sono al primo posto su youtube per la parola miniature per shorts all'ottavo posto creare miniature personalizzate al primo posto miniature youtube shorts secondo posto miniatura youtube shorts e così via e molto probabilmente se io vado anche a cercare queste parole su google sicuramente sarò anche dai primi posti anche lì questo perché ho fatto questo tipo di attività ovviamente come ho detto prima non basta questo noi dobbiamo anche fare un contenuto un video che vada incontro alle necessità degli utenti io ho risolto un problema qui perché purtroppo da un po' di tempo youtube non permette più di mettere le miniature come i video normali come facciamo in questa parte abbiamo questa sezione mettiamo la miniatura sugli shorts non esiste più e quindi visto che la miniatura è molto importante ha un forte impatto su quelle che sono le prestazioni di un video ho trovato questa tecnica esterna tra l'altro trovate il video su youtube sul mio canale vi invito ad andare a guardare e quindi avendo preso un bisogno la gente è andata a cliccarci al massimo e quindi ha fatto un buon numero di views il watch time è molto alto e quindi insomma ha fatto il suo dovere da un certo punto di vista e quindi avendo fatto anche un buon watch time youtube e google gli ha dato un'ulteriore spinta ok cioè più youtube perché google non è youtube quindi non ha a che fare con il watch time però per youtube ha avuto un buon risultato e quindi mi ha spinto ulteriormente un altro aspetto che ci può aiutare a migliorare le prestazioni dei nostri video e delle live eccetera sono le collaborazioni cosa intendo ovvero lavorare con altri creators per appunto far conoscere i nostri video trovare altri creators che trattano tematiche simili alla nostra e proporci per fare un video insieme banalmente quindi o invitare lui da noi al nostro canale oppure andare noi da lui o fare magari due video che sono uno affiancato all'altro quindi uno nel nostro canale uno nel suo eccetera eccetera io per esempio vi faccio alcuni esempi pratici ho collaborato spesso con Giorgio Taverniti che forse alcuni di voi conosceranno e abbiamo fatto proprio un video almeno due video che parlavano dello stesso argomento proprio della SEO per youtube e quindi abbiamo trattato lui un pezzo e io un altro in questo modo le persone tra virgolette erano obbligate a vedere sia il mio che il suo e ci ha portato a entrambi dei buoni risultati in termini di views watch time eccetera eccetera oppure fare anche altri tipi di collaborazioni banalmente una cosa che ho avuto un modo di fare io sono un caso un po' particolare lo ammetto però ci tengo a citarlo è che essendo anche video contributors contribuisco in termini di contenuti con youtube i miei video vengono inseriti in una loro playlist nel loro canale ufficiale youtube creators italia di conseguenza i miei video sono lì chi va sul canale di youtube creators italia li vede e di conseguenza anche quello mi sta portando tantissime views ovviamente lì è un caso particolare perché non tutti possono diventarlo però si possono anche valutare delle collaborazioni in cui per esempio chiediamo magari trovando noi una formula interessante agli altri creators di inserire i nostri video nella loro playlist ok magari noi facciamo altrettanto per loro o qualunque altra idea originale però al di là di questo un concetto che ci tengo a esprimere è che quando vi proponete agli altri creators che siano piccoli o grandi che quindi magari abbiano il vostro stesso numero di iscritti o magari siano più grandi non andate a mani vuote ok cioè andate lì da loro con un'idea ben chiara e precisa io tempo fa l'anno scorso ho intervistato Edoardo fa cose ok che appunto lui adesso ha più di 100.000 iscritti e quindi capite che rispetto a me è un creator molto grande io sono andato da lui gli ho scritto una mail con un'idea molto chiara in mente gli ho spiegato cosa volevo fare che quello che c'era da fare non gli avrebbe fatto perdere tempo perché essenzialmente era una live quindi lui da soltanto parlare basta non c'era nulla da preparare da parte sua e quindi visto che era da regolette aveva già passato i miei termini dalla pappa pronta o sicuramente anche per altri fattori anche perché il progetto insomma gli era piaciuto ha accettato di collaborare con me lui stesso mi raccontò che quando era più piccolino era riuscito a convincere alcuni creator a lavorare a collaborare con lui per dei video che faceva perché essenzialmente loro non dovevano fare nulla solo cliccare il tasto rec e parlare tutto il resto l'avrebbe fatto lui quindi anche in questo caso il consiglio che vi do è volete collaborare con dei vari creators allora tenete in considerazione che magari non tutti vi accetteranno purtroppo il fatto di trovarsi delle porte chiuse accadrà è inevitabile però se voi già andate con un'idea chiara un progetto in cui gli spiegate in maniera molto chiara punto per punto cosa volete fare con lui sicuramente e soprattutto parentesi il grosso lo farete voi e il minimo lo faranno loro saranno sicuramente più stimolati a collaborare con voi ok soprattutto se già nel vostro canale vi state impegnando per portare contenuti di alta qualità e qui c'è un altro concetto un'altra parentesi non pretendete di fare collaborazioni quando nel canale avete due o tre video e magari anche pubblicati con non con una certa regolarità perché appunto il creator in sé andrà a vedere il vostro canale e se vede che non c'è una costanza non c'è qualità difficilmente vi verranno a collaborare con voi un altro punto un'altra tecnica che io sto riscontrando essere molto efficace sono gli shorts gli shorts a differenza di tiktok e instagram hanno già una potente arma cioè di poter usare i link e che quindi siano cliccabili cosa che su instagram e tiktok non c'è quindi già questo ci dà una potente arma cioè quello che possiamo usare gli shorts per far conoscere i nostri video più lunghi banalmente mettendoli o in descrizione o consiglio migliore che vi do nel primo commento mettendoli in evidenza in alto come ben sapete quando noi abbiamo i commenti possiamo decidere di metterne uno fisso in alto in modo che se ne arrivano altri non scorre e non si perde ecco questo questa è una arma potentissima perché molto spesso gli shorts anzi non molto spesso è così vengono mostrati a un pubblico nuovo che non ci conosce nell'apposita sezione appunto shorts youtube spinge molto gli shorts soprattutto nelle prime 24 ore e se questi shorts ricevono views ricevono tempo di visualizzazione cioè vengono visti per quanto meno fino alla fine o quasi e ricevono like eccetera gli spinge ulteriormente questo ci dà la possibilità quindi di dare una finestra una vetrina agli altri video ok quelli più lunghi io in particolare una cosa che faccio è quella di mettere un video che sia correlato quanto meno all'argomento dello shorts infatti di norma io cosa faccio faccio uno shorts su una tematica che sono sicuro che ho approfondito in un video lungo inizialmente tempo fa facevo usavo lo strumento che offre sempre youtube che permette di tagliare un video e farlo diventare shorts però diciamo che graficamente non mi piaceva molto e non portava tanti risultati quindi ho preferito piuttosto farli ex novo quindi col green screen che vedete qui dietro se volete andarveli a vedere ho creato questo sfondo rosso come quello che avete visto qua delle live e tratto l'argomento in maniera molto dinamica veloce ok e quindi il mio consiglio è se non l'avete ancora fatto implementate gli shorts nella vostra strategia nel vostro piano editoriale grazie a tutti